Giallo sulla morte di Massimiliano Galletti trovato cadavere a Kiev non per cause naturali. La famiglia lunedì scorso si era rivolta alla Farnesina per cercare di rintracciare il 59enne San Benedettese ma nelle ultime ore è arrivata la tragica notizia proprio al municipio di San Benedetto del Tronto dove era impiegato come emesso comunale. Lavoro dal quale si era preso un periodo di aspettativa proprio per andare in Ucraina. Non è chiaro se è impegnato in qualche missione umanitaria o se si fosse unito ai gruppi di legionari a difesa dell'Ucraina dei quali aveva postato anche delle foto su Facebook. Ad aprire la PEC dell'ambasciata italiana in Ucraina sono stati i suoi stessi colleghi dell'ufficio anagrafe restando profondamente colpiti dalla tragedia. Da alcuni giorni non si avevano più sue notizie e i familiari di Galletti preoccupati per la mancanza di contatti avevano sporto denuncia di scomparsa. In particolare l'ex moglie e la figlia che aspettavano il suo ritorno a casa. Da quanto ricostruito, l'uomo si trovava in Ucraina dallo scorso dicembre. Chi lo conosceva sapeva che era impegnato in attività di supporto alla popolazione locale, probabilmente per la ricerca di dispersi con i cani che addestrava. Di certo c'è che era la seconda volta che andava al fronte nord, al confine con la Polonia, per il salvataggio dei profughi. Un'esperienza di certo forte e diversa dalle precedenti. Galletti come addestratore cinofilo era stato spesso in prima linea anche nei servizi di protezione civile e in supporto dell'Associazione Carabinieri Abruzzo, del club alpino italiano e dei volontari dei Vigili del Fuoco. Le esatte ragioni della sua presenza nel paese in guerra con la Russia non sono ancora state ufficialmente confermate, così come le cause del decesso. Ma il comune di San Benedetto del Tronto sta collaborando proprio con l'ambasciata per ottenere maggiori dettagli sulle dinamiche che hanno portato alla tragica scomparsa. La notizia ha lasciato sgomenta all'intera comunità dove Massimiliano era stato alla ribalta delle cronache anche per un tragico evento personale avvenuto a febbraio del 2023 e che lo aveva profondamente scosso. Il suo cane rimase folgorato su un tombino elettrificato in via Giovanni XXIII. Una notizia che ebbe anche un eco nazionale dato che Byron, questo il nome dello sfortunato Labrador, era diventato un eroe del sisma grazie a ripetuti salvataggi nei terremoti di Marche Umbria. Proprio Byron lo aveva accompagnato in quel primo viaggio in Ucraina ed è lì che due giorni fa ha perso la sua vita anche il suo padrone.